lunedì è quasi finito ovviamente sono le 5.20 ho appena finito un altro video per quella discoteca lì che dovevo fare cosa per mettere l'istastory avevo fatto un video di 15 secondi ora vado a lavorare e poi credo dormerò non lo so oggi durerà poco parte di oggi allora stasera devo vedere se riesco a andare al cinema con gli amici non ho ancora scritto niente nessuno quindi però è uscito The Noon capitemi mentre ho sistemato sky perché avevo sky che non andava perché c'era un ramo di rosa davanti alla parabola ma ditemi voi se deve finire lì un ramo di rosa porco schifo ora ho ancora un paio di cose da fare devo finire di editare delle foto di uno shooting che ho fatto tipo una cosa come due mesi e mezzo fa quindi sono giusto un appunto in ritardo e poi ho ancora qualcosa da fare oh giusto devo uscire nella batteria per il telecomando della cassa quindi se altre cose divertenti allora la situazione è questa sono le quattro e dovrei uscire a prendere a comprare delle cose c'è delle batterie per dei telecomandi ma non c'ho voglia perché mi sento stanco però devo uscire lo stesso ok poi non so cosa fare perché io vorrei uscire a fare delle foto con la mia macchina fotografica ma non ci voglio andare da solo vorrei cercare la compagnia ma non trovo nessuno e ho anche già finito di editare tutte le foto che dovevo editare che le trovate nella pagina linkata in descrizione giupiter.mp4 trovate anche il canale youtube e la pagina facebook perché è ovunque ovunque giupiter è ovunque è onnisciente non lo so non so come si dice quando è ovunque onnisciente forse vuole che sa tutto non lo so dovrei acculturarmi non c'ho voglia mentre sto trasferendo cose dal mac all'hard disk e so dovrei star scaricando macOS Mojave che è uscito ieri so che ieri non c'ho voglia scaricarlo ma ho saputo che ha dato dei problemi a delle persone so che a qualcuno gli ha pure fritto il mac quindi mi sa che aspetterò un po' prima di installarlo mi sa di si mercoledì oggi comincia che sono a dormire e non a mangiare pranzo insieme al mio cane so che il mio cane non si vuole il frank padrone perché è usato quindi ieri la serata alla fine è finita che mi sono guardato una volta di Dr. O una volta di Orange is the New Black e ho iniziato il troppo di spade per la felicità della mia cugina che mi ha sempre detto inizia il troppo di spade e l'ho fatto e devo dire che ora non mi sta piacendo un gran che ho visto le prime tre puntate non mi sta facendo impazzire però finirà almeno la prima stagione prima di decidere se continuarlo oppure no oggi l'ho giocato è stato così verso che a due o tre arriverà Stefano e andremo avanti a cocco con la mia oppure giocheremo non lo so dipende come ci gira poi verso le 5-6 esco vado con una mia amica a mangiare sushi poi andiamo a vedere Denun ragazzi Denun bellissimo quindi ci vediamo più tardi mentre sono sottoesposto in una maniera incredibile giovedì oggi non faccio niente non c'è niente da fare non c'è proprio un corno da fare quindi non faccio niente rimarrò il tutto il giorno quindi probabilmente ci passano subito venerdì oggi è giovedì giusto cosa dici? ok oggi è venerdì sono le 4 sì perché io registro presto perché oggi ho avuto un po' di cose da fare stamattina adesso sto ho finito di installare macOS Mojave sul mio macbook pro aggiornando tutti i programmi adesso sto installando Total Finder perché devo farlo dal boot menu mentre mi sto guardando la live del gatto che è su Forza Horizon 4 con il day one qua c'è il mio mac nel terminale poi alle 5 tipo tra una letta devo uscire che devo andare a guardare il cane di mia nonna e poi forse se riesco stasera vado a vedere The Noon perché l'altra sera che devo andare al sushi dovevo andare con una mia amica lo stesso e di nuovo mi è andata male perché lei si è sentita male perfetto io quando organizzo qualcosa va sempre male di sicuro sperando che stasera non salti ci tengo proprio ad andare a vedere The Noon quindi ci vediamo più tardi la situazione è questa non sono uscito non ho trovato amici non ho niente da fare sto guardando il trono di spada perché tutti mi fanno guarda il trono della spada è bello io ho finito le serie tv da guardare quindi ho detto guarda il nostro trono di spada adesso sono all'ultimo della decima stagione della decima della prima stagione decimo punto della prima stagione e spero che continui adesso è carino non di certo non lo mettere nella mia top 10 delle serie tv preferite però è accettabile almeno per i miei gusti sabati oggi fine vlog cioè il vlog finisce così perché perché oggi non ho niente da fare perché non ho amici fine cioè c'è chi esce tutti i sabati sera e ogni tanto gli capita di non avere nessuno invece è il contrario non esco mai e mi capita una volta ogni morte di papa di uscire con qualcuno o fare qualcosa quindi il vlog finisce qua sono le sei e un quarto e è finito bella ma alla prossima settimana no 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 Ciao